perché sei preoccupato il prossimo step della fase 2 che ritorna alla vita normale, ritorno a lavorare, non ci sarò per fare la spesa, non ci sarò per cucinare ma quello ci penso io è quello che mi fa preoccupare, è proprio quello ma cosa crede? Che mi spaventi? Adesso cucinare? a me, cucinare? Vedrà, vedrà, vedrà come sarò brava è buono sto cavolo nero ho strappato ovviamente le foglie e ho buttato tutti i gambi, forse per questo è buono me lo dici così? Hai buttato i gambi, le foglie? no, le foglie le ho strappate, ho tenuto solo quelle ma hai visto come faccio io? no, perché io sto sul divano di solito quando tu cucini no, perché io sto sul divano di solito quando tu cucini